Il testo completo è stato inviato via mail a tutti i Vescovi del mondo. Ulteriore dimostrazione che l'enciclica di Papa Francesco è una questione che riguarda l'intera comunità. Laudato sì sarà ricordata come l'enciclica verde, come l'invito del Papa venuto dalla fine del mondo a rispettare l'ambiente. Un vero e proprio vademecum composto da un'introduzione, sei capitoli e due preghiere conclusive. E in più una nota scritta a mano nella versione inviata via mail ai Vescovi. Nell'enciclica i suggerimenti proposti dal Papa riguardano l'uso di materiale plastico o di carta da evitare, secondo Bergoglio. Ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quando ragionevolmente si potrà mangiare e trattare con cura gli altri esseri viventi. Una preghiera quindi a favore dell'intero ecosistema, con l'invito a piantare alberi e spegnere le luci inutili e fare tutto quello che mostra il meglio dell'essere umano. Impossibile non pensare quindi che l'enciclica di Papa Francesco arrivi in un momento difficilissimo per la Campania, con la scoperta della discarica più grande d'Europa a Calvi Risorta, nel Casertano. Una preghiera accolta come un messaggio di speranza, anche e soprattutto da chi, come Don Maurizio Patriciello, in queste terre combatte perché non siano più avvelenate. Personalmente l'aspettavo proprio con ansia e per la verità ha risposto a tutte le domande del mio cuore perché mi è stato sempre chiaro che il problema ambientale non poteva essere affrontato solamente da un punto di vista ambientale. Il Papa ha infatti affrontato questo problema guardando proprio alla globalità dell'essere umano, alla sua interezza. Infatti parla di una ecologia globale, io parlo di un umanesimo integrale come lo chiamava Jacques Maritain. Quindi è l'uomo il rapporto con Dio per chi crede, poi il rapporto con l'altro uomo, il rapporto con l'ambiente da dove prende il suo sostentamento e il rapporto anche con le generazioni che verranno dopo di lui. Insomma noi non siamo i padroni di questa terra, quando è che lo comprendiamo?